Questo è il Tatsy Nomad, un kit portatile per fare il tè viaggiando. Io sono Simone di IlMioZeno.it, la piattaforma definitiva per ogni viaggiatore. Dove chi ama viaggiare trova tutto ciò di cui ha bisogno. Se il tema del viaggio ti interessa, iscriviti al canale e seguimi su Instagram. E adesso vediamo se questo è il kit per il tè da viaggio che fa per te. Innanzitutto devo iniziare dicendo che per me il tè non è una bevanda calda. Per me il tè è un po' un momento dove mi fermo, cerco un po' di tornare al presente, spesso lo bevo scrivendo il diario per esempio, ed è quindi un po' un rituale più che mi faccio una bella tazza di qualcosa di caldo. E quindi quando ho notato la pagina di Tatsy, che fa questi prodotti portatili per il tè, mi sono incuriosito. E questo è importante perché ovviamente questo non è un prodotto pensato per essere il il vostro kit da tè da viaggio più funzionale, più pratico. Ovviamente non lo è. Ci sono un sacco di altri prodotti che sono molto più leggeri, molto più compatti, molto meno fragili, che sarebbero migliori se quello che state cercando è un modo per farvi una tazza, una bevanda calda mentre viaggiate. Questo è più un rituale portatile ed è importante questa differenza se la cogliete. Questo prodotto è disegnato per avere dei dettagli, essere bello, essere ricercato e dare un pochino più consapevolezza quasi al vostro rituale del tè mentre siete in viaggio. E adesso vediamo cosa c'è qua dentro, come funziona e che cosa ne penso. Il Tatsy Nomads arriva in questa custodia già con questo piccolo moschettone che non è dei migliori ma non è nemmeno pessimo. Io mi ci fiderei ad agganciarlo esternamente al mio zaino con questo. Certo che se andate per un'escursione o comunque magari se è passato un po' di tempo da quando avete acquistato questo prodotto magari lo cambierei con qualcosa di un pochettino meglio. Si apre velocemente. Lo apro sempre dal lato sbagliato. Eccoci qua. E aprendolo trovate il coperchio. Poi mentre lo aprite vedete che questo panno separa tutti i bicchierini. Questo ovviamente per evitare che i bicchierini si spacchino durante il trasporto. Quindi dovrete fare questo, questa specie di sistema, dovete utilizzare questo sistema zigzag per assicurarvi di proteggere i bicchierini. Ci sono tre tazzine al loro al suo interno. Sono piuttosto piccole. Fondamentalmente sono due o tre sorsi. Arriva a dire che questo è un rituale portatile più che un prodotto per bere bevande calde in viaggio. Poi vediamo il corpo del Tatsy Nomads che è composto da questo filtro e da questo bellissimo contenitore. Questo non riesco a capire se è effettivo legno di noce ma lo sembra davvero e devo dire che esteticamente è secondo me bellissimo. Andiamo, vi ci faccio dare una bella occhiata. Guardate. E ora facciamo del tè con questa bellezza portatile. Basta mettere un po' di tè nel filtro come si fa fondamentalmente con qualsiasi altro sistema. Poi si riempie di acqua calda. Chiudete con il coperchetto. Il coperchetto diventa un appoggio per il filtro in modo che voi possiate velocemente estrarre il filtro. Riporlo qui senza fare danni. Poi potrete prendere il contenitore dal legno in modo da non bruciarvi e c'è una netta differenza in temperatura dal contenitore al legno. Il tè è servito. Il filtro è un pochettino largo quindi per i tè più sottili qualche pezzettino cadrà nel bicchiere, nel contenitore e poi nel bicchiere, ma per lo più non ho avuto problemi. Quindi per concludere, per chi ha questo prodotto e per chi non è questo prodotto. Innanzitutto non è fragile come pensavo all'inizio quando l'ho ricevuto, ma sicuramente non è un prodotto ultra resistente. Quindi non è per le persone particolarmente sbadate in viaggio che comunque non vogliono avere l'ansia di dover spaccare qualcosa. Ma la differenza principale sul per chi è e per chi non è, questo prodotto è per le persone che hanno un rituale del tè mattutino serale, mattutino e serale, che vogliono continuare mentre viaggiano e quindi vogliono un prodotto bello ricercato che appunto aumenti un po' la bellezza l'importanza di quel momento. Questo prodotto non è per chi sta cercando un prodotto quasi da campeggio, ok? Quindi chi vuole il kit per il tè o per il caffè, per bevande calde più efficiente e funzionale sul mercato, assolutamente non questo prodotto. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e se avete le domande lasciatemi nei commenti. Grazie mille e alla prossima! Grazie mille!